Buon Natale a tutti, sarà un Natale migliore di quello dell'anno scorso e quindi godetevelo fino in fondo con i vostri cari. Sarà migliore perché ci siamo vaccinati e quindi il regalo migliore che potete fare a voi stessi, alle vostre famiglie è quello di continuare a vaccinarsi, fare la terza dose appena possibile per chi è vaccinato e convincere coloro che ancora non lo hanno fatto. Dobbiamo uscire da questa pandemia, non ci sono strumenti migliori del vaccino per combatterla e quindi è evidente che se vogliamo proteggerci, non richiudere più, continuare a mandare i nostri figli a scuola e far sì che questa crescita che c'è per fortuna anche nella nostra provincia sia sostenuta, abbiamo bisogno di sconfiggere il prima possibile il Covid. Quindi mi raccomando, passate un Natale bello, gioioso, ma passate anche un Natale in sicurezza, attenzione anche a queste settimane perché dobbiamo tenere la guardia molto alta. Buon Natale a tutti voi!